Siamo stati due giorni in una full immersion a Capodarco di Fermo alla scuola di Pizza.it e Pizza.it School dove abbiamo trattato la pizza in teglia ad alte idratazioni con impasti diretti con alcuni cenni di impasti indiretti con biga e polish. Gli impasti indiretti verranno trattati in un prossimo corso che faremo a breve sempre qui a Capodarco di Fermo alla scuola di Pizza.it School. I ragazzi hanno risposto positivamente e diciamo che sono passati a pieni punti. Ciao, sono Antonio, ho fatto il corso qui a Pizza.it con Massimo Bosco, è stato fantastico. Questa è la pizza.it. Grande Pizza.it. Grande Pizza.it. Grazie a tutti. Grazie a tutti.